Mi chiedete di fare una disamina in questo sabato live delle due formazioni di Inter e Milan, chi prendiamo e chi non prendiamo, chiariamo che siamo tifosi nero-azzurri, ma dobbiamo essere anche obiettivi ragazzi. O dunque, Magnan Sommer, direi, cioè io sono interista, ma vabbè qui si può anche prendere Magnan, perché titolare nazionale francese quest'anno ha fatto un po' schifo, ma nel complesso è anche più giovane, quindi meglio lui. Quindi 1-0 per il Milan, beh qui ragazzi, manco a dirlo, ciao o bastoni, mi chiedete una cosa, bastoni, 1-1-1-1, Kier De Vrij, 2-1 per l'Inter De Vrij, Kier vecchio, poi scasso, Calabria-Darmian, anche qui 3-1 Darmian, cioè Paragone, Teo Hernandez di Marco, bisogna essere obiettivi, prendiamo Teo, 3-2 per l'Inter, Renders Nikita Rian, prendiamo tutta la vita Nikita Rian, garanzia totale, 4-2 per l'Inter, Krunic Ciananoglu, 5-2 per l'Inter Ciananoglu, Varela Loftus Cic, 6-2 per l'Inter Varela, Pulisic Dunfries, 7-2 per l'Inter Dunfries, non ci penso proprio, Leao, qui prendiamo Leao, 7-3 per l'Inter, e infine abbiamo Lautaro contro Giroud, quindi, 8-3 per l'Inter, è finita, Pioli Inzaghi, beh, non c'era neanche da dirlo, vecchiamo Inzaghi, ragazzi, avete capito, avete capito, e finisce qui il vostro quiz sportivo di oggi, del sabato.